Eccoci qui in questo primo video tutorial di questo appunto programma che diciamo si presenta come un'alternativa molto interessante ai più costosi ClickFunnels e Cartra ma anche un'alternativa a mio parere migliore rispetto a Builderall In questo video tutorial in particolare voglio farvi vedere quella che è la sezione dei contatti che è questa sezione qui da questa sezione possiamo praticamente creare dei contatti quindi aggiungerli manualmente inserendo tutti questi dati tutti o alcuni ovviamente di obbligatorio c'è solo l'email si possono creare dei nuovi campi personalizzati quindi creare ulteriori tipologie di campi a seconda del vostro business delle vostre necessità e soprattutto poi si possono abbinare dei tag ai vari contatti infatti diciamo che in questo programma System praticamente non esistono liste ma c'è una gestione più facile più snella e più comoda dei contatti vale a dire noi possiamo segmentare i contatti grazie a dei tag delle etichette quindi noi possiamo creare dei tag ad esempio io potrei mettere non so online marketers creiamo un tag manuale lo salvo ok e posso vedere poi a questo tag che ho creato quanti si sono iscritti oggi con questo tag quanti ieri di iscritti totali e i totali che si sono cancellati ed è praticamente una gestione simile a quella delle liste ma una gestione più comoda, più facile a questo punto noi potremo abbinare con delle automazioni che vi farò vedere il tag a seconda che una persona si iscrive al vostro opt-in, al vostro funnel abbinarli un determinato tag oppure si possono anche abbinare i tag manualmente quindi ad esempio io ho questo contatto qui il mio creato diciamo come prova cliccando all'interno di di questo profilo io posso abbinare il tag e quindi questo contatto finirà in questo in questo tag in questa lista da questa sezione si possono diciamo è una sezione di filtro in cui si possono cercare facilmente in base a determinati campi quali l'email il nome il cognome tutti gli altri dati posso filtrare tutti i contatti che avrò qui ed è una funzione comodissima prima di passare al prossimo video tutorial qui sotto in questo diciamo questo pulsante si possono importare i contatti se li avete avete ottenuto dei contatti tramite altri autoresponditori altri funnel a questo punto si possono importare con il classico file csv ovviamente viene vi viene raccomandato che questi contatti li avete acquisiti in sostanza magari facendo della pubblicità comunque in modo legittimo perché altrimenti ci sono dei contatti che finiranno nei vostri messaggi senza che questi vi abbiano dato loro la la loro email rischiate poi di avere problemi e anche il blocco dell'account di questo programma quindi invece se avete una lista mail che avete acquisito in modo legittimo col vostro file csv potete tranquillamente caricarla qui e caricarla su questo programma prima di lasciarvi al prossimo video tutorial in cui tratteremo anche appunto la creazione di funnel vi ricordo ti ricordo che qui sotto c'è il link per accedere a una prova gratuita di questo programma puoi accedere semplicemente inserendo la tua email non devi neanche mettere la carta di credito nient'altro prima di lasciarti ti ricordo anche di iscriverti a questo canale youtube e attivare le notifiche perché potrai ricevere in anteprima i miei video tutorial in italiano nei quali appunto ti spiegherò come utilizzare i programmi che utilizzo io per fare online marketing ci vediamo al prossimo video ciao